In sostanza è una truffa nel campo immobiliare, è una truffa ai danni del banca, in istituti di credito, in molti, i consueti istituti di credito, quindi il banca indese di credito durante San Paolo, sostanzialmente è una truffa che verte sull'erogazione di mutui dei quali non ci sono presupposti. Praticamente il meccanismo, detto in due parole, poi il tenente Bronello Santis vi spiegherà meglio e risponderà meglio di quanto posso fare io alle domande, se sono maggiori o particolari. Comunque è una truffa che ha comportato l'arresto di 5 persone che agiscono nel campo immobiliare e che hanno in qualche modo approfittato di una certa situazione di difficoltà di soggetti che intendevano vendere degli immobili, qui stiamo parlando di immobili non di grande valore, ma di immobili anche fatiscenti, anche di difficoltà difficili ad essere venduti e praticamente questi signori avevano bisogno di vendere degli immobili. Questi immobiliaristi che sono stati arrestati si rivolgevano a questi soggetti, andavano a caccia di situazioni di bisogno, di difficoltà e garantivano il fatto di trovare un compratore di questi immobili, però il compratore di questi immobili aveva bisogno di un mutuo e quindi che cosa accadeva? Praticamente il compratore che era costituito prevalentemente erano dei sinti, dei rom oppure persone con dei precedenti penali, quindi delle teste di legno sono praticamente finti potenziali acquirenti, chiedevano il mutuo alle banche, le banche come quelle che ho indicato prima e il mutuo veniva erogato su falsi documenti, cioè veniva praticamente attestata l'assolvibilità di questi acquirenti, che tali evidentemente non erano, con documenti falsi, quali falsi CUD, falsa attestazione dei datori di lavoro, quindi falsa documentazione che dimostrava che costoro potevano pagare il mutuo. Diceva il procuratore e il comandante Cominciato che l'indagine sia stata rilevante per i numeri, perché la truffa è vera in sé, era semplice, adesso magari ci ritorneremo nel dettaglio, quello che ci ha impressionato è la serialità con i numeri liberi di tutte queste truffa. Abbiamo accertato noi, ma siamo certi che i numeri siano ben maggiori, l'organizzazione che ha individuato ha compiuto 43 operazioni mobilitari tutti insieme. Le persone completamente coinvolte della truffa sono 100, di cui 5 li abbiamo arrestati oggi che sono gli artefici e gli organizzatori, gli altri 95 sono le parti che in un modo dell'altro si sono prestate, che sono state coinvolte da un bidamo che ha accacerato alle parti di 5 milioni di euro. Queste persone, già in questo modo, hanno ottenuto punti per 5 milioni che ovviamente non hanno restituito. Ancora la caratteristica più importante dell'indagine è che i dati risultati che siamo arrivati sono tutti documentalmente, bancariamente, cioè ogni singola operazione e siamo riusciti a ricostruire esattamente il giusto finanziario. La legalità economica è quell'insieme di regole che disciplinano il mercato, i servizi, e non sono dei piedi servizi. Qualunque danno, qualunque bonus a queste regole non si ferma soltanto ai soggetti che fanno parte della frode, ma coinvolgono tutta la collettività. I danni, ad esempio il classico sono le assicurazioni, tutte le assicurazioni sull'auto, comportano costi ulteriori e superiori per la collettività. Quindi la tutela dell'economia regale è uno dei nostri obiettivi più importanti.